buongiorno a voi e buon caffè biblico 15 anni fa l'idea che avremmo seguito un caffè biblico sul nostro cellulare ci appariva probabilmente fantascienza per alcuni in un futuro ormai prossimo ci troveremo a chiacchierare in un salotto con amici che in realtà sono distante migliaia di chilometri o centinaia di chilometri come se fossero lì presenti insieme a noi e parteciperemo a delle riunioni in presenza in presenza digitale in tre dimensioni riunioni convegni o a conferenze parteciperemo anche appuntamenti di lavoro e chissà forse a caffè biblici mi riferisco al cosiddetto universo virtuale al metaverso come lo chiamano ora grazie soprattutto a facebook che ne sta parlando tantissimo si tratta di un universo appunto virtuale che verrà vissuto come se fosse reale in esso in questo ambiente ci potremmo muovere e potremmo interagire in modo tridimensionale come ci vediamo magari usando dei visori particolari o non lo so comunque su un quotidiano nazionale rancilio un giornalista si interroga e dice questo la rivoluzione in arrivo ha e avrà bisogno più che mai di regole per i cristiani si profila un'ulteriore sfida come porteremo la parola di dio la nostra voce le nostre esperienze nel metaverso senza tradirle e senza rischiare di rimanerne invece fuori tanto quanto 15 anni fa non avremmo mai pensato di passare così tanto tempo chinati a fissare un cellulare oggi ci viene istintivo bollare come improbabile o poco probabile o assurda a questa sfida per il cristiano di diffondere il vangelo addirittura in un mondo virtuale nel metaverso molti di noi usano per leggere la bibbia l'applicazione nel cellulare che è chiamata you version ebbene la chiesa che l'ha lanciata la life church negli stati uniti domenica 12 dicembre scorso ha cominciato a trasmettere incontri di chiesa in cui si può partecipare in modalità immersiva attraverso la realtà virtuale il metaverso appunto già la domenica successiva erano presenti con il loro avatar quindi con questa rappresentazione di sé virtuale 200 persone collegate da new york dall'indonesia dalla russia dalla finlandia dal regno unito interessante francamente non so se questo mondo digitale virtuale si diffonderà così tanto non lo so tuttavia se così sarà quanto alla sfida del cristiano credo basterà con umiltà e apertura far nostra all'esortazione di paolo a timoteo quando dice predica la parola insisti in ogni occasione favorevole sfavorevole convinci rimprovera esorta con ogni tipo di insegnamento e con pazienza ebbene questa sfida dell'universo virtuale del metaverso eccetera ha dei rischi certo che li ha è solo qui in italia però è solo in occidente che pretendiamo che il vangelo non affronti rischi o non chiami dei rischi a noi non temere piccolo greggio perché al padre nostro è piaciuto darvi un regno dice il signore con dio veramente di cosa mai dovremmo aver paura dio vi benedica